Volturara-Appula è un paese di appena 450 abitanti al confine con il Molise. Qui, l'8 agosto del 64, nacque Giuseppe Conte in una casa nel centro storico. Questo è il certificato di nascita conservato al comune, dove suo padre Nicola, originario di Cerignola, lavorò fino al gennaio del 67. Di Volturara è sua moglie Pasqualina Maria Roberti, insegnante elementare, con cui ha avuto anche una figlia, Maria Pia, un anno più grande di Giuseppe, attualmente docente di diritto privato all'Università di Firenze. Questa era la casa materna, perché è la mamma di Giuseppe Conte, del professore, che ha origini volturarese. Qui abitava la nonna e fin tanto che la nonna era in vita, il professore veniva tutte le estate a Volturara. Anche la mia casa paterna è qua vicino, l'ho visto spesso, si giocava nascondino. Vengono spesso dei cugini, dei parenti. Ultimamente sono stati per la festa della Madonna, ed estate anche. Lei conosce la mamma? È stata una mia insegnante, la prima elementare e la seconda elementare. Come ricorda il segretario generale del comune? Era molto bravo, è preparato. L'ultima volta ci siamo visti che quando è morta la cognata... Dopo Volturara, la famiglia Conte, per gli impegni di lavoro di Papa Nicola, si trasferì a Candela e poi a San Giovanni Rotondo, dove si stabilì definitivamente. Ha vissuto qui a San Giovanni Rotondo la sua infanzia, la sua adolescenza, fino al termine delle scuole superiori che ha frequentato in quel di San Marco in Lamis. Con me, io ero sindaco, sono stato per due o tre mandati, e ho svolto l'assistenza legale al comune, veramente con alta professionalità e con senso del dovere.